Andrea Dal Corso, dopo il no alla tronista, ha rotto il silenzio sui social.Il 15 febbraio è andato in onda in prima setata allo speciale di uomini e donne dedicato alla scelta dell'unica tronista donna. Teresa Langella Una grande novità per il dating show di Maria De Filippi che per la prima volta ha deciso di dedicare un'intera puntata per il momento più importante di un lungo percorso, la scelta Per Teresa, le cose non sono finite bene in quanto il corteggiatore scelto la respinta e non si è presentato alla festa di fidanzamento Dopo giorni di silenzio, Andrea Dal Corso appare sui social, ecco cosa ha detto Andrea Dal Corso rompe il silenzio sui social, le prime parole dopo il no.Il no del corteggiatore Veneto ha fatto molto discutere i numerosi fan della trasmissione Il motivo? Molti credono che Andrea abbia palesemente preso in giro la cantante napoletana, secondo gli utenti in rete, i suoi comportamenti lasciavano pensare che avrebbe detto sì In realtà, le cose non sono andate per il verso giusto, e dopo giorni di silenzio social Andrea Dal Corso, è apparso su Instagram con una proposta indirizzata proprio a Teresa Langella La proposta di Andrea Dal Corso a Teresa Langella.Nei giorni immediatamente successivi alla scelta, Andrea Dal Corso è stato duramente criticato dalla rete e per tale motivo, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto mettere a tacere le critiche Continua dopo le foto Non ho alcuna intenzione di spiegare qui le motivazioni che mi hanno spinto a prendere questa decisione, sarò ben felice di farlo guardando Teresa negli occhi, e spero mi darà questa possibilità . Il corteggiatore invita la tronista napoletana ad un confronto e spera che gli darà la possibilità di spiegare i motivi che si celano dietro al suo secco no Chissà se Teresa accetterà questa proposta .